Francesco Monte non vuole incontrare Cecilia Rodriguez, il gossip a pomeriggio 5 Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si sono incontrati dopo il grande fratello Vip? La verità a pomeriggio 5. Francesco Monte e Cecilia Rodriguez non si sono ancora incontrati dopo leliminazione della sorella di Belen dal grande fratello Vip. A rivelarlo è Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo e Nuovo TV, a pomeriggio 5. Il giornalista ha confessato di aver sentito telefonicamente l'extronista di Uomini e Donne poco prima della diretta del programma di Barbara D'Urso. E a quanto pare l'ex di Teresa Anna Pugliese non ha alcuna voglia di rivedere l'Argentina. . Soprattutto dopo le ultime parole di Cecilia all'interno del reality show. Come i più attenti ricorderanno, la Rodriguez ha prima definito Monte la perfezione, nonché più bello di Ignazio, per poi specificare di non essere più innamorata di Francesco. . Dichiarazioni piuttosto confuse quelle di Cecilia che non hanno reso felice Francesco. . L'attore emergente anche se non vuole incontrare la sudamericana è costretto a farlo. . Come spiegato da Signoretti, i due hanno degli effetti personali dell'altro nelle rispettive case. . Dunque, Francesco e Cecilia dovranno rivedersi per scambiarsi gli scatoloni. . In realtà la modella imprenditrice vuole pure chiedere scusa a Monte per il comportamento tenuto all'interno della casa di Cinecittà con il ciclista Ignazio Moser. . Cecilia, come già svelato in più di un'occasione, ha inoltre intenzione di recarsi a Taranto per scusarsi con la famiglia Monte, che negli ultimi quattro anni l'ha accolta e amata come una figlia. . .